bello a tutti ragazzi sono arin e come potete vedere dal video siamo su zetsu bonoshima e vi farò vedere qui appunto come fare il teschio di no sapwe all'infinito perciò come essere immortali e diciamo questo glitch è uno dei migliori che abbia visto su questo gioco per prima cosa appunto creiamo il teschio di no sapwe e una volta averlo pronto lo prendiamo in mano accoltelliamo una spora una volta che vi farà tossire facciamo doppio triangolo almeno schiacciamo due volte triangolo e in massa destra vi farò vedere quanti colpi avrete all'inizio vi apparirà zero e dopo vi apparirà ad esempio come a me 96 a questo punto cerchiamo di scaricarlo e portarlo verso i 5 colpi o 5 secondi e poi successivamente vi servirà il coltello bowie perciò lo comprate prima e perché appunto come prossimo step dovremmo accoltellare uno zombie prima però dobbiamo arrivare verso i 5 colpi siamo ancora ad un bordello ma va bene siamo 5 ok adesso possiamo ucciderli una volta arrivati a zero appunto vi toccherà accoltellare uno zombie per questo appunto vi ho detto di prendere il bowie una volta accoltellato due volte avremo il nostro teschio all'infinito come potete vedere siamo a zero e sta shottando perciò l'avremo all'infinito appunto e adesso vi farò vedere velocemente come fare pure più round credo fra un po farò pure una live per vedere quanti round farò comunque vi consiglio credo di non prendere bonus o altre robe e niente se sapete già come fare ad aprire qui la stanza degli ingranaggi fatelo perché vi servirà appunto per cercare di fare più round molto più velocemente come vedete basta che ci baghiamo qua dentro e lasciando appunto possiamo sparare all'infinito niente per questo lice appunto è tutto fatemi sapere quanti round riuscite a fare inizialmente volevo farlo in due persone però purtroppo il mio amico è crashato e ho dovuto continuare la partita da solo ho fatto pure numerosi falli infatti vi consiglio di provare prima di iniziare a fare il record perché inizialmente non mi è riuscito come glitch però una volta che avete capito come funziona riuscirete a baggare al meglio comunque sia vi saluto vi ricordo di iscrivervi e niente bella